Rieccoci a Primo Interpares con il sindaco di Belluno, Iago Pommassaro, nel vedere un aspetto giovanile dico mamma mia che giovane, già da 4 anni sindaco di una città, tra l'altro io reputo, dico sempre a tutti i sindaci che vengono a trovarmi, credo che una delle belle cose, lei è nato a Firenze però a 10 anni dalla scheda è nato via a Belluno, fa il sindaco della città dove si è cresciuto, dove si è nato, credo sia una delle più belle cose che possa avere e dare una persona per la propria città, credo dia una soddisfazione enorme. È una soddisfazione enorme ma più che una soddisfazione è un incredibile onore il fatto di poter essere sindaco della tua città, è vero non sono nato a Belluno, sono stato adottato da Belluno da piccolo sostanzialmente. Non è rimasto nulla però di Toscano, i Toscani non ti ha detto che è simpatico, d'altronde quando uno si trasferisce a 10 anni d'età ha preso un po' da Renzi, non ha l'accento toscanazzo, al di là delle battute, c'è gente povera a Belluno che ne viene in comune e dicono signor sindaco non ho soldi per mangiare ho perso il lavoro, mi può dare una mano e se sì quanti? Beh ce ne sono come ahimè in ogni città e noi abbiamo diciamo come problematica aggiuntiva abbiamo come sempre il rovescio della medaglia di una città che per anni ha vissuto bene, Belluno era nota per avere il più basso indice di disoccupazione, era famoso a Belluno quasi non c'era la disoccupazione, purtroppo con la crisi invece negli ultimi anni la disoccupazione c'è stata e come? Quindi da noi eravamo anche se vogliamo poco abituati a questo, quindi abbiamo sicuramente delle situazioni difficili anche noi, le dirò che tutto sommato le nostre situazioni difficili sono comunque complessivamente tenute sufficientemente sotto controllo con i servizi sociali? Certo con i servizi sociali noi spendiamo circa 4 milioni e 600 mila euro all'anno che è una cifra piuttosto importante per una città della nostra dimensione e 4 milioni e 600 mila euro l'anno sostanzialmente in aiuti di tipo sociale, abbiamo fatto però delle modifiche rispetto al passato, abbiamo lavorato molto modificando alcuni aspetti e la prima cosa che abbiamo voluto fare già fin dal 2012 è stato occuparci delle cosiddette nuove povertà, tutto ciò che lo Stato prevede è ancora basato sull'idea che uno o ha il lavoro a tempo indeterminato o non ha lavoro, quindi o è pensionato o ha un lavoro fisso o non ha lavoro, il mondo è cambiato, oggi la povertà spesso risiede in aree nelle quali magari una persona lavora ma lavora per soli due mesi, poi rimane a casa, poi lavora per altri sei mesi, è cambiato il mondo del lavoro, sono cambiate le strutture familiari, alcuni dei poveri più frequenti che si trovano maggiormente in modo più frequente per esempio sono madri o padri separati che pagano gli alimenti e che sfuggono ai servizi sociali di norma. Loro sono i nuovi poveri perché loro risultano avere un reddito perché magari uno è, noi abbiamo avuto due casi famosi, un operaio e un impiegato di banca che dormivano in macchina nel Piave, sulle rive del Piave perché loro risultavano avere un normale lavoro e quindi ufficialmente risultavano non aver bisogno di niente, in verità loro pagavano una quota molto importante del mutuo per la casa dove non abitavano più, pagavano gli alimenti e per loro rimanevano due o trecento euro con cui non erano in grado di avere una casa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato da subito i regolamenti comunali per fare in modo che queste persone che prima sfuggivano diciamo al concetto di necessità sociale venissero invece incluse e quindi adesso loro fanno parte diciamo, non sfuggono più alla rete. Dei nuovi poveri. E l'altra cosa che abbiamo fatto invece è stata molto importante e non indolore, è stato in un momento di grande difficoltà abbiamo modificato tutto il sistema tariffario del comune di Belluno, dalle mense alla casa di riposo a tutto, facendo che cosa? Tendenzialmente alzando le tariffe perché andassero vicini al costo effettivo della tariffa ma differenziassero le tariffe a seconda della capacità di reddito. In un tempo chi andava in casa di riposo che avesse una pensione da 3.000 euro al mese o avesse la pensione sociale pagava la stessa cifra e il comune metteva per ciascuna di queste persone 20 euro al giorno di compartecipazione che è una cosa stupida. Abbiamo tolto la compartecipazione a chi non ne ha bisogno e l'abbiamo aumentata a quelli che hanno i redditi più bassi. Questa è una cosa doverosa. Primo un cittadino più che un telespettatore, un cittadino per uno ha detto che l'amministrazione dovrebbe valutare e guardare con molta attenzione le case Ater. È un problema che in tante città c'è. Chi non ha tutte le carte in regola, uso questo termine, per poterci andare ad abitare ci va ad abitare, certe persone che hanno una possibilità economica buona ci vanno ad abitare, addirittura io porto l'esempio per esempio la città di Padoco, il sindaco che è stato nostro ospite, c'erano più case date alle persone straniere che ai residenti padovani e ha rivalutato e ha ricontrollato un po' il tutto. Ecco, lì a Belluno sta controllando questa situazione visto che il cittadino lo ha fatto presente. Allora, innanzitutto c'è da fare una premessa. L'accesso alle case Ater è previsto dalle normative, quindi non è il comune che decide chi può andare nelle case Ater. Il comune può inserire alcuni criteri che privilegino determinate categorie rispetto ad altri. Che sono importanti. Che sono importanti, certo. Ecco, quindi questa è la premessa. Detto questo, noi abbiamo fatto vari controlli rispetto proprio agli assegnatari di alcuni alloggi, naturalmente non possiamo entrare in casa d'altri, cioè l'Ater è un'azienda della regione del Veneto, dipende dalla regione del Veneto e quindi noi possiamo limitarci a cercare di interloquire. Non sono case di proprietà del comune? No, sono case di proprietà dell'Ater e gestite dall'Ater. Sono anche dell'Ater e tante proprietà dell'Ater città? Allora, sono due cose diverse. Ci sono le case Ater nelle quali non possiamo mettere più di tanto il naso. Insomma, certo interloquiamo con l'Ater, abbiamo un ottimo rapporto. Da controllare se all'interno c'è qualche drogato ma non sarebbe mai male. Dall'altra parte abbiamo alcune case comunali che sono state anche date in gestione all'Ater e per le quali abbiamo progressivamente, diciamo, fatto delle verifiche che infatti ha portato anche a, diciamo, chiudere progetti sociali che c'erano in quell'appartamento. Tradotto vuol dire laddove c'erano delle persone che o non avevano diritto, non avevano più diritto a rimanere lì oppure avevano rifiutato gli aiuti. Noi diamo aiuti a tutti e noi aiutiamo molto come comune di Belluno. In cambio chiediamo ovviamente alcune cose. Chiediamo per esempio che se ti troviamo un lavoro devi andare a lavorare. Allora, le persone che hanno rifiutato questo per quanto ci riguarda chiudono il loro progetto sociale e quindi per quanto ci riguarda non hanno più diritto all'alloggio e quindi molte di queste persone sono state ovviamente sfrattate dagli alloggi che hanno stati loro assegnati ma per rinuncia, non perché abbiamo, perché siamo cattivi. Quindi il telespettatore ha detto in esattezza? Ma guardi, io dico questo, su queste questioni qua bisognerebbe sempre conoscere il caso specifico perché ci sono molte cose che si dicono normalmente per cui si dice negli alloggi ATER ci sono sempre persone che non hanno diritto. Poi dopo quando noi siamo andati a fare i controlli non era vero. Magari si può non essere d'accordo con i criteri che la legge prevede per l'accesso. Oppure potrebbe esserci un caso specifico ma dobbiamo avere la segnalazione del caso specifico per fare le valutazioni. Noi in alcuni casi abbiamo chiamato la guardia di finanza laddove abbiamo avuto dei dubbi. Quindi non ci siamo mai sottratti a fare i controlli anche perché Belluno ha adottato un po' questa linea. Noi siamo molto sociali, cioè molto inclusivi, molto sociali, cerchiamo di essere vicini ai cittadini, contestualmente richiediamo enorme precisione e enorme rispetto delle regole. Quindi noi non siamo per dare tutto a tutti, siamo per dare tutto ciò di cui ha bisogno una persona a fronte del fatto che lei è corretta nei confronti della comunità. Ci vorrebbero molte ore di trasmissione con lei perché ho molte cose anche e ancora da chiederle. Ritorniamo un passo all'indietro sulle tasse. Voi per uno studio fatto dalla CNA siete la seconda città dove vengono pagate meno tasse, ma la cosa importante è che voi siete la città più bassa per quanto riguarda le tasse e le imprese e questo è sicuramente una loda che viene fatta all'amministrazione di Belluno. Ma questo sì per noi è motivo di vanto, però è anche il frutto di una scelta politica che abbiamo fatto e che è scaturita anche da un problema che abbiamo nella provincia di Belluno. Noi come provincia di Belluno siamo incuneati fra l'Austria che ha condizioni fiscali di favore, il Friuli Venezia Giulia che è una regione a saluto speciale e quindi ha delle agevolazioni che noi non abbiamo e dall'altra parte il Trentino Alto Adige che ha rispetto a noi fiumi di soldi e di agevolazioni fiscali che addirittura noi per legge non possiamo dare ma che in Trentino Alto Adige si può dare. In effetti le faccio una battuta, io sono uno che va in vacanza in Trentino e l'anno scorso sono andato in Cadore, non avevo seguito, non mi entusiasmava andare in Cadore, preferivo più il Trentino, Val Pusteria, Val di Fas, Val di Fiamme e tant'altro. Questo anno sono andato in Cadore è qualcosa di straordinario, però appena riesco vado a Cortina, passo il passo mi aiuti per andare a corvare in Val Badia, sembra l'erba appena passato, sembra di un altro colore. È un esempio tipico. Ed è un'erba sempre... È un esempio tipico, il bellunese ha tanta erba quanta ne ha il Trentino Alto Adige ma non ha le risorse per sfalciarlo che invece ci sono in Trentino Alto Adige. Ma è venuto il falzarego. Il falzarego, sì sì. Allora quindi questo è un esempio proprio tipico e recentemente mi è capitato in più di un'occasione di alcuni diciamo piccoli imprenditori che hanno detto guarda Massaro mi dispiace ma io devo chiudere la sede della mia azienda qui a Belluno, la riapro appena arrivato al confine perché là non mi fanno pagare tasse per alcuni anni, mi danno un contributo a fondo perduto che nota bene è vietato in tutta Italia salvo che in Trentino Alto Adige, quindi io anche se avessi soldi come comune di Belluno non posso dare dei soldi ad un'impresa privata e quindi loro diciamo si trasferiscono appena ridata dal confine. Allora di fronte a questo evidentemente non possiamo rimanere fermi. È una battaglia persa. È una battaglia persa. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto cerchiamo di lavorare molto da un lato sulle infrastrutture e il resto dopo vi dico come e dall'altra parte abbiamo lavorato molto sul discorso delle tasse perché noi sappiamo che le tasse sono uno dei problemi principali per le nostre imprese in questo momento abbiamo cercato di contenere al massimo diciamo la tassazione per cui Belluno che aveva una buona performance ma non era niente di straordinario dal punto di vista delle tasse siamo riusciti nell'arco di qualche anno a portarla prima al quarto posto in Italia e adesso al secondo posto proprio per le tasse più leggere per le imprese. Contestualmente abbiamo lavorato sulle infrastrutture molto diciamo in modo molto pesante e siamo riusciti con un'operazione politica credo abbastanza rilevante a portare a Belluno la ultra broadband che sarebbe la connessione in fibra ottica diciamo della connessione in fibra ottica 100 megabit e Belluno è stata una delle sette città italiane cablate per prime in Italia cosa che ci ha consentito di offrire alle imprese è una cosa che abbiamo presentato poche settimane fa quindi è una novità di adesso e questo ci consente di dire alle imprese se venite a Belluno avete tasse basse più basse anche che il Trentino Alto Adige e contestualmente avete fibra ottica e ultra connessione esatto che non trovate dalle altre parti o meglio le trovate a Milano e in altri grandi centri ma non in piccoli centri. Senta Sindaco invece per quanto riguarda il lavoro e i giovani il rapporto al lavoro com'è la situazione a Belluno? Beh la situazione a Belluno è la situazione tipica delle città un po' più piccole e delle città di montagna e cioè si sta lavorando molto diciamo sulla idea dello sviluppo dell'imprenditoria anche giovanile però naturalmente scontiamo il problema che i centri più piccoli spesso rischiano di avere un'emorragia di giovani che vanno verso i centri maggiori. Le sedi universitarie sono un attrattore naturale se vogliamo per i giovani e questo è come possiamo dire un qualche cosa che dobbiamo mettere nel conto perché non possiamo noi competere con la capacità attrattiva di Bologna o di Milano. Oltre allo studio tanti quando ora del lavoro dicono vado all'estero ti accorgi che vai a Londra a Berlino a Parigi e ci sono moltissimi ragazzi italiani tra l'altro anche delle zone bellunese di Conegliano a quella parte lì ce ne sono parecchi quelli di Conegliano preferiscono il gelato apro le gelaterie e vanno nei paesi est e poi pensi che trovino dei lavori straordinari e fanno tutti i camerieri. Mi domando visto che Berlino è circondata da località turistiche davvero importanti cortina su tutto vai all'interno di tanti alberghi e trovi tanti di nazionalità dell'est con tutto rispetto e senza nulla torre perché i nostri non vanno lavorare lì magari guadagnerebbero di più perché uno che va a Londra deve anche mandare i soldi per mantenere nonostante il lavoro. Ma guardi noi stiamo lavorando su questo allora stiamo innanzitutto stiamo lavorando su un progetto che si chiama Vivi Belluno che al di là del titolo è un progetto molto importante per noi è il progetto con il quale cerchiamo di bloccare questa emorragia che tutti i centri minori hanno nei confronti delle grandi città oppure dell'estero facendo che cosa intanto offrendo degli appartamenti il comune di Belluno solo di proprietà propria ne mette a disposizione 25 da subito ma poi cresceranno col passare del tempo mette a disposizione degli alloggi a degli affitti assolutamente direi quasi risibili si parla di 100 euro al mese insomma quindi cosa assolutamente basse rispetto alla logica di mercato proprio alle persone più giovani per fare in modo che abbiano un'opportunità un'occasione di realizzarsi nella loro vita anche senza rimanere fino ai 40 anni a casa con la mamma e il papà oppure viceversa proprio per emanciparsi dire me ne devo andare a Milano oppure devo andare a Parigi con gli amici e condividere con loro un appartamento quindi noi metteremo a disposizione questi alloggi proprio per chi vuol fare un'esperienza di questo genere oppure vuole ritornare a Belluno abbiamo tante teste in giro che vorrebbero tornare indietro e quindi cerchiamo di offrire un'opportunità in secondo luogo abbiamo fortemente rafforzato tutti i servizi che sono attorno alla famiglia quindi oggi si trovano una serie di opportunità che Belluno non aveva fino a qualche anno fa e che sono delle oggettive facilitazioni degli aiuti proprio alle famiglie che hanno figli o che pensano ai figli o che vogliono stare con la fidanzata o con la propria moglie e questo consente diciamo abbiamo spostato l'attenzione del comune proprio sulla fascia diciamo più giovane attenzione oggi giovani si considera ormai fino ai 40 anni quindi abbiamo su questo la fascia da 0 a 40 anni mentre un tempo si guardava molto di più alle fasce più anziane perché era diversa la società perché i problemi erano altri quindi siamo concentrati diciamo su questo poi abbiamo lavorato come dicevo prima sull'ultra broadband per offrire connessione internet ad alta velocità perché sembra una stupidaggine ma i giovani hanno bisogno di essere collegati e anche rapidamente e costantemente e con questo abbiamo diciamo offerto un pacchetto diciamo di misure sicuramente migliorative rispetto al passato. Quindi diciamo che il lavoro per i giovani a Belluno è meno preoccupante che in altre città? Più che altro stiamo presentando delle opportunità di lavoro anche nel campo del turismo che a Belluno non esistevano fino a pochi anni fa i dati turistici che abbiamo in questo periodo bisogna considerare questo Belluno non ha mai lavorato sul turismo abbiamo iniziato noi con il 2013 proprio era stata la scommessa anche elettorale se vogliamo ci abbiamo lavorato e i dati che stanno arrivando sono dati veramente molto incoraggianti abbiamo fatto per due anni consecutivi ripeto la migliore performance del Veneto in termini di crescita l'abbiamo fatta a Belluno e quindi questo cosa sta generando? Sta generando una città più viva e vivace che è una condizione essenziale perché i giovani possano starvi perché ci piaccia o meno i giovani in una città morta non ci vogliono stare e quindi una città più vivace ma anche una città che nel turismo vede diciamo un'opportunità di crescita anche lavorativa o di occasione lavorativa sicuramente in più. Ultimamente stanno arrivando vari giovani con cui stiamo collaborando per aiutarli nell'avviare delle start up e avremo a breve credo delle importanti e interessanti Qualche giovane ha detto se non ho recepito male dobbiamo migliorare anche per quanto riguarda la cultura. Sì è vero ma noi abbiamo fatto un buon lavoro fino adesso secondo me proprio nel ricucire un po' il tessuto culturale della città di Belluno con le varie associazioni che cosa manca a Belluno? A Belluno dal prossimo anno ci saranno opportunità nuove due grandissimi palazzi vengono ristrutturati e diventeranno un po' i palazzi capitali della cultura della provincia di Belluno. Quello modificherà completamente il rapporto fra la città di Belluno e la cultura che oggi è un po' tra virgolette in sospeso in attesa di questi grandi contenitori Per capirci si apre la stagione delle grandi mostre e quindi a cascata si riapre delle stagioni in cui anche il tessuto culturale locale avrà delle opportunità enormi in più Ci saranno eventi importanti? Ci saranno eventi importanti però di questo parleremo più avanti perché adesso è un po' presto credo poterne parlare. Noi abbiamo sicuramente un evento molto importante a fine anno riapre Palazzo Fulcis, uno dei più straordinari palazzi che il Veneto potrà offrire è un palazzo di livello nazionale dal punto di vista delle sue caratteristiche che ospiterà l'attuale Museo Civico di Belluno che è estremamente sconosciuto ed è uno dei musei civici più belli d'Italia che contiene tele di ricci, tintoretto, abbiamo veramente di tutto Abbiamo veramente degli artisti straordinari e la gran parte delle nostre tele, dei nostri tesori oggi sono negli scantinati perché non c'è spazio per esporli. Quel palazzo prestigiosissimo in pieno centro di Belluno ospiterà il Museo Civico che tirerà fuori l'80% della sua collezione diventerà un museo veramente importante per il Veneto ma per l'Italia proprio Senta, una delle domande che abbiamo fatto ai cittadini e siamo andati a chiedere riguarda la sanità sia quella pubblica sia quella privata e lì abbiamo avuto più di qualche cittadino che non è molto contento della sanità bellunese Ma guardi, la sanità bellunese sta attraversando sicuramente un periodo difficile per le scelte purtroppo che la regione del Veneto sta portando avanti La sanità è in mano alla regione Assolutamente La regione sta portando avanti un piano di riorganizzazione che prevede alcune cose nelle quali sicuramente ci sono alcune problematiche C'è un problema effettivo che è dovuta alla coesistenza diciamo nella provincia di Belluno di sette strutture ospedaliere è una peculiarità unica in Italia dovuta ad un territorio unico in Italia da noi non è che si possono fare ragionamenti come si può fare altrove e dire basterebbe un solo ospedale da noi arrivare in un ospedale quando nevica e quando non può andare all'elicottero significa ogni tanto avere un viaggio di due ore e mezza in macchina questo è difficile farlo capire a chi sta dietro una schivania a Roma o a Venezia ma noi abbiamo questo tipo di problema sfido chiunque avete preso un elicottero visto a Pieve di Cadore noi abbiamo un fantastico elicottero del SUEM il SUEM è uno dei servizi che meglio funziona in Italia in termini di risposta all'urgenza e emergenza medica ma il SUEM serve tutto il territorio provinciale e si serve di numerosi presidi ospedalieri allora che cosa succede? succede che nella riorganizzazione della regione del Veneto molto spesso vengono fatti dei ragionamenti facendo 2 più 2 a tavolino e si dice magari questo reparto non serve chiudiamo una cosa ne chiudiamo un'altra noi invece abbiamo bisogno di una strategia per una sanità di montagna che non siamo in grado di fare come bellunesi perché non abbiamo le risorse che ha il Trentino Alto Adige e abbiamo bisogno che sia la regione del Veneto che ci aiuti noi abbiamo bisogno di... la regione ha fatto credo anche un po' bene tagliare perché prima c'era... io sono d'accordo su questo ma io per esempio sono d'accordo e non tutti i bellunesi concordano su questo sono assolutamente d'accordo sulla unificazione della ULSS di Felter e della ULSS di Belluno non è il problema di quanti direttori generali abbiamo in provincia di Belluno che determina la qualità della nostra salute a noi interessa avere una strategia complessiva di livello provinciale sulla salute di tutti i cittadini abbiamo bisogno di avere dei reparti molto specializzati che poi siano l'ospedale di Belluno oppure su qualcosa invece l'ospedale di Felter su un'altra cosa a pievedicatore non è questo il punto l'importante è che abbiamo un ospedale di riferimento provinciale che è Belluno che si è attrezzato per fare anche alcune cose che oggi potrebbe fare ma attualmente non riesce e che quello che diceva il cittadino non lo è certo, ci sono alcune cose che oggi non sono ancora di fatto partite ma che la stessa regione Veneto ha scritto nella sua programmazione che devono essere implementate qual è il problema? c'è un articolo di una legge regionale che dice la sanità montana della provincia di Belluno che quindi è una cosa particolare che ha dei costi particolari deve interamente essere finanziata cosa significa? significa che la regione dice in provincia di Belluno c'è bisogno di A, B, C e D e dovrebbe dare i soldi per fare in modo che ci sia A, B, C e D oggi purtroppo la regione Veneto fa una programmazione ma prevede dei soldi che non bastano a realizzarla tutta il punto centrale di cui probabilmente parlano i cittadini è esattamente questo quindi quando loro hanno la percezione che manchi ancora qualcosa per avere una sanità effettivamente adeguata nonostante il livello sia estremamente elevato in provincia di Belluno questo lo voglio sottolineare la sanità in provincia di Belluno è molto elevata ma non è soddisfacente rispetto alle necessità che ha un territorio così esteso e così particolare come la provincia di Belluno quello che chiediamo è attuare quello che è la stessa regione del Benito dice e quindi lei sta bussando la porta con Zai e tutti i giorni? sostanzialmente sì questo è quello che noi facciamo costantemente è continuare a ribadire questa necessità la regione dice sì lo sappiamo ora non ci sono soldi a breve faremo a breve faremo ma attualmente non è partito io non è che non capisca i problemi di soldi del Benito sono un sindaco conosco bene le grandi difficoltà che oggi ci sono in termini economici ma occorre laddove c'è un riconoscimento di una specifica necessità sul campo del diritto alla salute occorre necessariamente farsi avanti trovare una strategia e risolvere questo e io credo che i primi cittadini di tutta la provincia di Belluno siano pronti a fare a intavolare un dialogo con la regione per risolvere queste problematiche Sindaco Belluno è circondato da località turistiche prima lei ha detto che a Belluno arrivano 130.000 sono arrivati 130.000 turisti ecco ripeto Cortina ma non Cortina Lago di Misurina insomma ci sono molte cose in Lago di Misurina ci sono Calalzo ci sono molte località località straordinarie adesso non le ricordo così facilmente anche se ci sono passate diverse volte ecco Belluno ne trae beneficio se sì come se no perché non lo trae in questo momento Belluno è diventata la sesta diciamo località turistica più importante della provincia di Belluno che per noi è un dato straordinario perché Belluno era come dicevo prima non ha mai fatto turismo invece in pochi anni siamo cresciuti moltissimo noi abbiamo una capacità attrattiva molto importante che stiamo valorizzando sotto il profilo prevalentemente diciamo del turismo culturale mettiamola così i nostri beni architettonici ambientali storici ecco tutto questo noi oggi lo stiamo mettendo sul piatto e insieme a Feltre stiamo conducendo una strategia unitaria perché Feltre ha questa stessa peculiarità e stiamo lavorando molto insieme per proporre diciamo un prodotto turistico unico ecco qui lo interrompo lo spiego perché il turista per esempio nel Veneto la città principe o regina come meglio vuole definirla è Venezia molti turisti negli anni scorsi andavano a Venezia poi passavano per Pado per Treviso per Vicenza per Verona e ci rimanevano di passaggio oggi queste città i sindaci che ho avuto ospiti in questa televisione hanno lavorato in modo tale che il turista che va a Venezia si fermi nella città di Treviso di Vicenza e di Pado e di Verona a Belluno state facendo questo? certo stiamo facendo questo e stiamo facendo questo credo in un modo sensato e cioè Belluno e Feltre si presentano con un'offerta complementare rispetto al turismo di montagna che può dare Cortina piuttosto che Arabba Sappada Auronzo tutte le località diciamo più turistiche invernali noi ci presentiamo con un'offerta che è complementare per cui la persona che va a sciare a Cortina e a Rampezzo non solo può sciare anche a Belluno sul Nevegal che è la stazione scistica più vicina alla pianura la più comoda che c'è ma al di là di quello può anche andare a fare una visita a dei palazzi storici può prendere uno spritz in un centro storico di altissimo pregio può ammirare le montagne stando seduto le montagne di Dolomiti Unesco stando seduto in un luogo storico cioè stiamo lavorando su questo ambito ma stiamo anche lavorando moltissimo e sta dando buoni frutti sullo sviluppo del cicloturismo la recezione alberghiera di Belluno è buona per questo la recezione alberghiera di Belluno è diciamo discreta nel senso che questa crescita piuttosto veloce ci ha messo un po' in difficoltà cioè i posti letto hanno cominciato a scarseggiare per questo motivo il comune di Belluno ha promosso insieme a una serie di privati il primo albergo diffuso che c'è stato in Veneto ospitalità diffusa che cosa vuol dire usiamo le case le seconde case dismesse di molti proprietari privati facendo una reception unica e ci consente questo di riutilizzarle come se fossero diciamo camere di uno stesso albergo un grande successo ha avuto e adesso lo stiamo replicando questo lo abbiamo fatto sulla sinistra piave proprio sotto la schiara quindi sotto le prime diciamo cime Dolomiti Unesco in una zona quindi molto verde molto bella adesso lo stiamo replicando anche sul Nevegal e stiamo iniziando anche le pendici del Nevegal quindi ci sono varie iniziative che stanno partendo e anche i bed and breakfast sono incrementati molto le Olimpiadi vinte da Cortina saranno vantaggio per Belluno? assolutamente sì sono un'opportunità credo per tutto il territorio provinciale la prima grande opportunità è che si riesce a far parlare della provincia di Belluno la maggior parte del territorio patrimonio Unesco d'Italia cioè le Dolomiti patrimonio dell'Unesco sono per la maggior parte in provincia di Belluno eppure si sente sempre parlare delle Dolomiti in Trentino Alto Adige i mondiali di Cortina potrebbero essere una opportunità per rifocalizzare l'attenzione sul Veneto dal punto di vista montano è sempre per quel discorso che l'erba del vicino è sempre più verde ma naturalmente insomma noi non ci focalizziamo tanto sull'erba quanto sui soldi per tagliarla bene se da prima andare in pubblicità un'ultima domanda poi parleremo anche dei migranti e di tant'altro lo sport lo sport di base a Belluno è a posto c'è qualche novità c'è qualche palestra nuova in costruzione com'è la situazione? beh la situazione infrastrutturale a Belluno diciamo che è una diciamo una situazione sicuramente che ha bisogno di miglioramenti piuttosto importanti abbiamo alcuni soldi li abbiamo stanziati li stiamo utilizzando adesso è una delle strade che aiuta più facilmente all'uscita non c'è dubbio adesso noi stiamo lavorando prevalentemente sulla piscina che ha bisogno di interventi infrastrutturali abbastanza urgenti e stiamo lavorando anche sulla progettazione di interventi ulteriori sia sullo stadio polisportivo per capirci sia anche sul palasporto che ha bisogno di parecchie migliorie purtroppo sono tante le strutture sportive poche le risorse a disposizione e allora abbiamo avviato anche lì come abbiamo fatto con le altre associazioni abbiamo avviato delle collaborazioni con associazioni sportive che si stanno curando i loro per esempio campi sportivi periferici con una modalità così di aiuto sussidiario per cui noi diamo dei soldi per aiutare queste società le società intanto si gestiscono i loro campi però ci sono alcune strutture su cui è evidente che è necessario per forza l'intervento del comune lo stiamo facendo adesso stanziando dei soldi certo è che un tempo eravamo abituati a grossi finanziamenti regionali sulle strutture sportive che da alcuni anni non esistono più e quindi qualche privato che abbia un interesse a progetti finanzi cioè c'è la possibilità in questo senso? le possibilità ci sono sempre sulla carta poi nella realtà non sempre ci sono bisogna trovare persone che abbiano soldi per fare qualche contatto l'avevamo avuto attenzione perché molto spesso questi project financing sono sicuramente convenienti per l'edificio che viene rinnovato sono convenienti per il privato che investe sono un po' meno convenienti per le società sportive del luogo per il comune e per i cittadini che magari non accedono più alla struttura come prima perché la concessione che deve fare il comune è questa oppure accedere con tariffe estremamente elevate e questo non sempre è un dato molto possibile cominciamo sistemando la piscina come impianti sportivi sono quelli che più costosi anche da mantenere assolutamente sì anche se la nostra è in grande attivo perché la nostra piscina è una delle più funzionanti e una delle più richieste abbiamo anche la lista d'attesa per potervi accedere però le sistemeremo va bene promessa fatta andiamo in pubblicità poi avremo l'ultimo break con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro rimanete con noi tra poco grazie a tutti grazie a tutti